Adesso giochiamo a... come si chiama? Non so nemmeno come si chiama questo gioco. Allora, possiamo scegliere il training. Benninger, aspetta, fai il training. Se proprio non vuoi perdere e durare di più. Praticamente bisogna... con la pistola, che è questa, per farvi vedere, vedete? Il nostro giocatore spara con la pistola e ci sono vari tipi di obiettivi a seconda dei round. Qui in questo caso deve beccare le meduse. Non ne vedi quanti? Lo vedi? Allora, la grafica... perché hai perso du cuori? Erano tre e ne hai persi... perché hai perso du cuori? Beh, andiamo avanti. Andiamo un po', qua bisogna sparare alle palle gialle. Questa è cosa? Beh... Allora... ecco qua... questo è già più semplice. Qui dacci dentro, Nicolò. Dacci dentro... volevo dire... sì, dacci dentro... Nicolò, dacci dentro! Sei duro? Eh, ma ce l'hai fatta lo stesso. No! Ma perché? Allora... grafica... Zero. No, bella la grafica. Giocabilità... zero. Schifo. Interfaccia... Bella... Due. Sonoro... Tre. Sì, sì. Sì, sì. Via, basta. Si concludeva.